ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi finalmente abbiamo il report dopo un mese di utilizzo di questo opinel numero 10 con lama carbon andiamo a vederlo insieme eccoci qui ragazzi dopo un mese di utilizzo di questo opinel carbon regalatomi da salvatore per natale ragazzi nel pacco in cui c'era anche il super pezzettone di lardo buonissimo tra l'altro ragazzi tagliato fine sui crostini in forno un secondo una goduria una goduria vera grazie ancora salvatore ragazzi la lama la vedete eccola qua che la vedete bene mettiamo una bene a fuoco eccola lì ragazzi io non l'ho curato minimamente nel senso che non ci ho pensato neanche lontanamente di mettergli una goccia d'olio sicuramente se ero a casa un'asciugatina gliela davo se ero nel bosco una passatina nei pantaloni dopo aver tagliato quello che dovevo tagliare e andava via così la lama dopo un mese di uso senza cura è diventata così ragazzi lama che tra l'altro vi faccio vedere prendiamo un fogliettino eccolo qua vi faccio vedere ragazzi questo è il tagliente che non ha mai visto la pietra ragazzi solamente stroppato ora non pensate che resta così non pensate che questo acciaio al carbonio dell'opinel da 15 euro resta così ragazzi se lo usate un mese adesso non viene più via la carta perché ho tagliato le unghie ragazzi eccola qua non pensate che il tagliente resta così senza che lo toccate un mese ho detto che non ho mai usato né le bacchette né la pietra tagliente che si riprende tranquillamente come vedete è lucido stroppandolo ragazzi con il compound il tagliente si riprende completamente e taglia veramente bene arriva a tagliare come avete visto a rasoio praticamente ragazzi è talmente fino arriva fino al tagliente che taglierebbe anche senza essere così affilato il vostro salamino ve lo fa tranquillamente ovviamente ragazzi è un coltello stracomodo è un coltello super 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 economico è un coltello che funziona alla grande è un coltello che potete tranquillamente usare ragazzi se non siete maniaci del coltello ma vi piace andare all'aria aperta ragazzi con i suoi limiti lo potete usare ovviamente è un coltello che non serve per farci batoning non serve per fare lavori pesanti non pensate di andare a scardinare le porte del treno con l'opinel perché non lo fa vi si piega la lama ma ragazzi è un coltello che usato nel suo va benissimo un bel coltello da taglio lama 10 centimetri secondo me il 10 è quello vincente ragazzi ci fate tutto adesso non vorrei dire eresie però ragazzi se lo paragoniamo a un endura in vg 10 ci fate le stesse cose ci fate le stesse cose con la differenza che questo lo riprendete al volo perderà il filo un attimino prima anche se il vg 10 lo sapete non è che tiene un filo eterno però ragazzi con due stroppate sulla cintura questo torna un rasoio e taglia sempre veramente un bel coltello ragazzi me lo sono portato anche nel bosco adesso non so se usciranno i video dove l'ho usato non ci ho fatto un test vero e proprio perché ragazzi sarebbe stato inutile batonarci se andate a fare sforzo forte sulla lama l'anello salta via ragazzi si stacca proprio stang salta via quindi non serviva andare a provarlo in determinate circostanze quindi senza pestarlo è un coltello che 15 euro di coltello per quello che costa un coltello da taglio che funziona 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 bene vi tagliate le vostre cose come avete visto nei video ci facciamo tranquillamente le punte ragazzi tranquillamente le punte a legno nel bosco anche tronchetti abbastanza grossi quando il coltellone che abbiamo è gigantesco e quindi non si può usare dovrebbe esserci nel video del signor giovanni gamba l'opinel se non erro ragazzi tanti video non mi ricordo più tutto benissimo comunque ragazzi coltello che va bene va benissimo ripeto non nel taglio se lo usate per tagliare che differenze volete trovarci con un altro coltello tipo un endura che costa 100 euro ragazzi non ci trovate nulla ovviamente altra meccanica altro meccanismo anche se qua ragazzi con il nostro bel roto blocca siete tranquilli e se non andate a sforzare ripeto perché se sforzate l'annello salta poi quindi se non ci andate a sforzare come i maledetti pestandoci sopra come i fabbri è un coltello che funziona bene tra l'altro ragazzi accende anche benissimo il fuoco fa dei bengala pazzeschi io l'ho usato chiuso e ragazzi l'ho proprio usato chiuso uno spigolo vivo esagerato ragazzi vediamo se si vede ancora qualcosina forse qua ragazzi però ripeto usato chiuso e aperto provato sia chiuso che aperto per accendere il fuoco va via che è una fucilata ma proprio una fucilata ragazzi note negative tra parentesi negative ovviamente appena lo prendete è un po duro da aprire e da chiudere e quando lo bagnate quando lo lavate per quello ho evitato il più possibile l'acqua il legno si gonfia ragazzi leo di faggio si gonfia e trattiene la lama quindi diventa veramente dura da estrarre lo sapete tutti ragazzi però quando diventa dura da estrarre proprio non si apre si usa il colpo del savoiardo che è questo vedete si prende questo zoccoletto qua c'è proprio per dare questo colpo voi date il colpo se non riuscite a prendere la lama perché ragazzi è troppo dentro e l'unghia non riuscite a prenderla avete appena tagliato le unghie ragazzi colpo del savoiardo la lama esce vedete colpo del savoiardo la lama esce quel pezzettino in più che vi serve a prenderla so che lo sapevate tutti però ho voluto farvelo vedere lo stesso ragazzi l'ossidazione era quella che mi interessava per farvi capire che allora sul cibo ragazzi io sapori strani non le sento ovviamente se tagliate la mela ragazzi magari un minimo ma cioè io sinceramente ragazzi avrò le papille gustative di gargamella però non lo sento ragazzi non mi dà assolutamente fastidio tagliare del cibo con una lama carbon ragazzi ripeto ossidazione che c'è qui ha fatto anche un pochino di ruggine come vedete però ripeto non l'ho proprio curato volevo vedere dove arrivava e soprattutto visto che c'è gente che quando fa un puntino di ruggine il coltello mamma mia mamma mia mi si spezza la lama a metà ragazzi sto coltello va avanti cent'anni se non lo forzate perché comunque se non lo forzate perché ovviamente è un coltello da non forzare per la sua destinazione d'uso diciamo per quello che è stato creato il salamino la pancetta e due lavoretti nell'orto ragazzi è un coltello che va avanti cent'anni non abbiate paura non è che si fa una briciola di ossido sulla lama poi tra l'altro ossidato così a me piace da paura ragazzi da paura da paura la lama qui non ha tanta ossidazione perché quando sono nel bosco lo pianto sempre nel tronchetto anche questo mi sembra che si vede nel intanto che sto lavorando nel video del gamba però voglio essere sicuro vediamo quando esce prima uno e poi l'altro comunque poi andate a vederlo ragazzi la lama ossidata va bene poi ci lucidate il filo perché lo passate sullo strop e diventa una figata vedete il filo bello lucido passato sullo strop che taglia rasoio ragazzi ne abbiamo altra ne abbiamo altra ne abbiamo altra ragazzi ne abbiamo altra ragazzi cioè questo coltello non ha visto assolutamente pietre bacchette roba varia per un mese è stato ripreso tranquillamente sullo strop più volte ragazzi ed è andato alla grande ragazzi ripeto un coltello che se state cercando un coltello per andare nel bosco a divertirvi e la vostra prima intenzione è quella di divertirvi di divertirvi non di stare a fare le seghe sul coltello ragazzi è un coltellino che come chiudibile per mangiare per fare qualche piccolo lavoretto non devo dirvelo io ragazzi ma è un coltellino assolutamente da consigliare sul fatto dell'ossidazione ragazzi pigliate questi opinel usateli guardate che ossidano guardate che diventano belli e poi magari vi fate veramente anche meno segmentali ad usare i carboniosi ragazzi nel bosco e non stare a metterci ogni giorno litri e litri di vaselina andiamo alla conclusione finale opinel numero 10 lama carbon ragazzi un coltello super 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 economico un coltello che funziona bene ragazzi parliamo comunque di un pezzo di storia quindi ragazzi se c'è da tutto sto tempo è un coltello che funziona ovviamente è un coltello economico tenetelo nel suo ragazzi non andate a battonarci sopra per romperlo di proposito è un coltello che per i compiti da taglio ragazzi non ha nulla da invidiare ad altri coltelli più blasonati con acciaio migliori acciaio al carbonio che sicuramente non ha una tenuta del filo immortale ragazzi ma riprendete tranquillamente con lo stroppo in un mese di utilizzo utilizzato veramente tantissimo ragazzi avete visto la lama sia nel bosco in cucina ripreso unicamente con lo stroppo non ha mai visto né pietra né bacchette ragazzi taglia come un laser ragazzi coltello che se volete accendere il vostro focherello col fire steel fa dei bengala esagerati un coltellino che tenuto nel suo ragazzi secondo me per quello che costa se non l'avete mai provato anche se non ci credo è un coltello da provare assolutamente ragazzi dall'opinel numero 10 lama carbon dal pacchetto del taglia gole è tutto buona giornata e ciao ciao